buongiorno buongiorno a tutti gli amici di Saint Vincent io non sarò tra voi quest'anno però partecipa al concorso masters of web per lanciarvi una qualche mia presenza allora per fare questo mi serve il bussolotto e un tocco di magia tocco di magia questo è il tocco di magia un ovino kinder che è il tema del concorso di quest'anno avete scelto un tema che a me piace molto perché mi piace fare magia con le uova come avranno capito quelli che mi hanno visto a giro con una gallina per il san vansal guinzaglio mi piace molto anche la cioccolata per esigenze di numero mi tocca mangiarla veloce e mi piace anche molto la sorpresa diciamo che a volte la sorpresa piace molto ma non sempre per cui è giunto l'ora di far provare provare a fare un altro pochino di magia da dove la sorpresa è una cosa magica e noi in questo modo cerchiamo di fare qualcosa di magico un tocco di magia tac e la magia si fa di nuovo e vediamo se direi che abbiamo avuto un po' di sorpresa sì una sorpresa con un kinder sorpresa una sorpresa inaspettata come deve essere una sorpresa ciao ciao ciao